Teledo e Ruti è una televisione monolocale. Le riflessioni sulla nostra irrilevanza le abbiamo fatte. Come si può esistere socialmente in questo nostro paese? Ve lo dico e poi vado in bagno a cagare. Devi appartenere o alla massoneria o all'Opus Dei. O essere ebreo o comunque devi appartenere a una lobby. Quindi riepilogando. Massoneria, Opus Dei, ebreo. Destra e sinistra sono ormai dettagli. Io ce l'ho vicino alla massoneria. Ogni tanto mi dico vado lì, vado a bussare. Un giorno li ho visti, come ho raccontato anche nel mio libro, Roma vista contro il vento, che entravano col bidone a spiegare tutto. Tu dici, ce l'hai vicino casa, vada ai masoni. Ma perché i masoni dovrebbero prendersi il Marchese Fulvio Abate? L'Opus Dei non ne parliamo. Ebrei non è possibile perché non lo sono. Dici allora cosa sei, di sinistra o di destra? Mi vuoi prendere per il culo, ma pensi che sia come quelli che soffrono perché è stato detto male dell'ultimo film di Nanni Moretti, sono Massoneria, Opus Dei, ebreo, potentati, lobby, il Marchese Fulvio Abate. Te le due ruote.